A Ragusa, grazie all'unità delle opposizioni, quella unità cercata da un anno, i grillini vanno sotto in Consiglio Comunale, opposizione che infatti ha votato compatte impedendo alla giunta Piccitto di procedere con le variazioni di bilancio. Piccitto venga in aula a chiedere un patto di solidarietà per chiudere dignitosamente questo l'invito delle opposizioni, oppure dicono si dimetta e libera la città da una presenza inutile quanto ingombrante. Un movimento quello grillino che a dire in particolare dal PD è ormai imploso, perde pezzi e non ha più i numeri nella forza politica per chiudere con dignità questo scorcio conclusivo di legislatura. Sott'accusa quindi resta il sindaco che addirittura non si presenta in aula, rimarcono i consiglieri PD, neppure quando c'è da affrontare argomenti di vitale importanza per il proseguo dell'attività amministrativa e poi si scontra con una contrapposizione totale dell'opposizione che stavolta si sono trasformate in maggioranza, schiacciando ogni velleità di prevaricazione da parte di un esercito pentasterlato ormai in rotte con le armi spuntate. In conclusione una prima sonora sconfitta al momento 5 Stelle contro il fronte stavolta compatto delle opposizioni che non hanno fatto alcuno sconto, ma alla resa totale dei conti mancano ormai pochi mesi.